Il Milan ha acquistato Nathan Bernardes Soares, 18enne brasiliano, classe 2000, poco conosciuto, ha firmato un contratto di due anni per il club rosso nero. Il giovane attaccante, svincolato da sette mesi, ha giocato nel Cruzeiro, dal 2014 al 2017, e nella Vai. Nathan giocherà nella primavera rosso nera di Alessandro Lupi, attualmente impegnata nel torneo di Viareggio, un veri low cost. Il Milan ha inviato il contratto al giocatore e al suo agente, rappresentante dell'agenzia Uplay Sports, e la firma è avvenuta in un ufficio a barra da Tiuca, nella zona ovest di Rio de Janeiro. Nathan, essendo un brasiliano, occupa un posto da extracomunitario, che effettivamente è poco conosciuto, e far occupare un posto da extracomunitario a un calciatore veramente poco conosciuto sembrerebbe una pazzia, e invece può essere un acquisto intelligente perché si potrebbe cedere dalla prossima stagione, anche in prestito, e così facendo si libererà un posto extracomunitario. Leggi tutti gli articoli su agenti anonimi.